Infine, il semplice rider alto vi dà una decisa superiorità sopra tutti gli astanti o circostanti, senza eccezione. Uno dei territori più divertenti della scrittura leopardiana è il comico. Essere pessimisti, essere nichilisti non significa non ridere, ma anzi trovare più cose da ridere. Sappiamo fra l'altro che l'inizio della produzione di Leopardi è stata una produzione satirica. Quello che lui faceva da ragazzino a 15-16 anni erano tutte cose comiche e fra l'altro sembra appunto testimonianza di una vita abbastanza felice. Leopardi ama per esempio molto tradurre un testo, dico molto perché lo tradurrà, farà ben tre prove di traduzione, la batracomiomachia, la pseudo-omerica batracomiomachia che poi dopo tre tentativi di traduzione darà luogo a un'opera creativa che sarà i Paralipomen della batracomiomachia. Siamo qui alla fine della sua vita. Ma all'interno della categoria del comico ci sono le scritture ironiche, la grande ironia romantica, la grandissima ironia delle operette morali. Non è una scrittura satirica, è una scrittura ironica, diversa, una scrittura filosofica, ma poi c'è anche la satira. Ci sono le prosette satiriche di Leopardi, quel capolavoro del galantuomo e mondo dove c'è il rovesciamento, il mondo alla rovescia, il galantuomo che si presenta dal mondo, il mondo lo guarda e dice chi sei tu? Sono un galantuomo male, dice il mondo, male e malone, non bisogna essere galantuomini per vivere nel mondo. Leopardi è stato uno dei pochi poeti che hanno introdotto i maccheroni nella poesia. È una poesia bellissima che i nuovi credenti, una poesia satirica molto forte perché lui era arrabbiato tra l'altro che nel regno di Napoli avessero vietato la pubblicazione delle operette morali, probabilmente perché considerate ateo lesive della religione. E se la piglia con tutti questi cattolici progressisti dentro alla città di Napoli e mette questa cosa bellissima. Sarma Napoli a gara alla difesa dei maccheroni suoi, che a maccheroni anteposto il morir troppo le pesa. E comprender non sa quando son buoni, come per dir tu lor non sien felici borghi, terre, province e nazioni. Che dirò delle triglie delle alici? Qual puoi bramar felicità più vera che fardostri che scempio in fra gli amici? Questi che immaginano che sia tutto, che la vita è in totale progresso, che il progresso domina l'esistenza, che tutto andrà meglio di come è andato finora, contro questi intellettuali letterati Leopardi scrive una violentissima lirica intitolata i nuovi credenti che è piena di napoletanità.